Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di RockPolitik, ospite di questa puntata il professore Antonio Rinaldis. Innanzitutto professore la ringrazio di essere tornata ai nostri studi nel mio programma di RockPolitik. La prima domanda è innanzitutto come sta, come sta vivendo questo periodo un po' di instabilità politica, soprattutto perché negli ultimi giorni abbiamo sentito nell'ultima settimana un'aspra polemica sulla scuola, un mondo che lei ha molto a cuore, essendo un professore da molti molti anni. C'è stata questa polemica sui 50 docenti che hanno firmato una lettera nella quale si va contro alla notizia che è trapelata dal nuovo governo di un possibile prolungamento delle elezioni a giugno. Ecco lei come risponde a cosa dice riguardo a questa polemica di questi ultimi giorni? Intanto ringrazio te Cristian di avermi ospitato nuovamente in questo format che mi piace molto, perché risponde anche all'esigenza di riavvicinare i giovani alla politica andando contro un pregiudizio sempre più diffuso, cioè che appunto la politica è una roba sporca oppure fatta da persone che hanno interessi più o meno diciamo occulti. Ecco quindi è importante che i ragazzi giovani si riavvicinino al mondo della politica perché come dico sempre la politica è il nostro bene comune per cui è l'idea di qualche modo di partecipare a qualcosa che va oltre le nostre diciamo piccole vite individuali. Per rispondere alla tua domanda, sì beh guarda il nostro liceo ha promosso questa iniziativa che in realtà nasce da una lettera di un mio collega che io peraltro ho sottoscritto in cui appunto si dicono delle cose come dire abbastanza normali di fronte alla proposta speriamo che restitare ma non sono così convinto di un prolungamento dell'orario diciamo del calendario scolastico alla luce di una motivazione che oggi oggettivamente non sta in piedi, cioè l'idea che peraltro era già stata un po' anticipata dal Presidente Ministro e che siccome si è perso del tempo su questo sarebbe interessante ragionare, allora poteva rendersi necessario prolungare delmeno due settimane il calendario scolastico. Allora di fronte a questa affermazione io mi sono fatto una domanda, chi parla sia Draghi che il Ministro precedente o anche quello attuale sa esattamente cosa succede a scuola? Perché questa è la domanda che dobbiamo farci tutti perché se si esprimono in questi termini vuol dire che non hanno minimamente idea di cosa sia la scuola oggi in Italia e anche di che cos'è la scuola in questa emergenza Covid, cioè ci hanno detto per almeno un anno che la DAD che poi è diventata DID, questi acronimi che nella scuola ormai sono diventati quasi delle, fanno parte di una come dire di una specie di rito esoterico, per cui per decodificare DID, DAD, POF eccetera bisogna essere veramente degli esperti, ci hanno comunque detto che la DID o la DAD era come dire a tutti gli effetti scuola, no? Seria. Poi ci vengono a dire in realtà e noi ci siamo attivati, no? Personalmente anche come istituzione e come scuola, come liceo e non solo quello di di Varo naturalmente, siamo attivati per dare, come dire, da dare seguito a questa, a quest'idea facendo praticamente anche dei progressi tecnologici incredibili, io voglio vedere quale categoria professionale riesce ad aggiornarsi nel giro di un nulla come è successo agli insegnanti, cioè per molti di noi, ma io non ho nessuna vergogna a dirlo, la scuola digitale era del tutto sconosciuta, era quasi un tabù e noi nel giro di una settimana, massimo due, abbiamo dovuto imparare a usare degli strumenti didattici che non avevamo nella maggior parte dei casi neanche mai sfiorato. Quindi, cioè, c'è stato richiesto uno sforzo enorme, no? Dal punto di vista dell'aggiornamento e della professionalità e adesso dopo un anno di tutta questa roba, cosa si dice? Che abbiamo scherzato. No, ma non era scuola seria, no? Cioè, quindi tutto quello che abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto le famiglie, che hanno fatto gli studenti, non era vera scuola, per cui dobbiamo recuperare. Ecco, io di fronte a queste robe, devo essere molto sincero, mi sento veramente disorientato. Quindi dobbiamo capire se quello che stiamo facendo, perché continuiamo a farlo, perché nella nostra scuola, ma non solo nella nostra, una parte degli studenti è ancora a distanza, dobbiamo capire se quello che stiamo facendo è vera scuola, oppure se stiamo giocando, stiamo perdendo tempo, stiamo passando tempo o cose di questo genere. Ora, bisognerebbe dare veramente delle risposte a questa cosa, altrimenti il mondo della scuola, e questa è una commissione che sempre di più mi si fa chiara, rischia il disorientamento e la marginalità, no? E poi, aggiungo un'ultima cosa, bisognerebbe smetterla, io l'ho anche scritto per Globalist, tanto non è pubblicità, non mi fa concorrenza a Globalist, perché è un giornale, bisognerebbe smetterla con gli annunci spot. Cioè, chi parla della scuola, sia il demiurgo Draghi, che è diventato una specie di messia, sia l'ultimo dei ministri o dei funzionari, prima di parlare della scuola dovrebbe chiarire che cosa si intende per sistema educativo, comunità educativa e tutte queste belle robe. Altrimenti, cioè, si fanno solo davvero gli interventi mirati, ma che non affrontano la complessità di un settore che è strategico e fondamentale per il nostro paese. Volevo chiederle, lei che vive in prima persona la situazione scolastica, che vive a contatto con i ragazzi, ecco, questa situazione di incertezza in cui viviamo, soprattutto anche politica, ha degli effetti concreti? Lei ha notato dei cambiamenti nei comportamenti dei ragazzi e dei suoi alunni in questo ultimo periodo? Sono cambiate delle dinamiche a livello sociale tra le relazioni che si creano tra ragazzo e docente e anche tra i ragazzi? Ha notato qualche cambiamento? No, ma assolutamente, Cristian, molti e molti in senso, diciamo, patologico quasi. Cioè, molti ragazzi soffrono di vere e proprie problematiche psicologiche. C'è un termine inglese che poi è italianizzato, omesizzare, no? Omesizzazione vuol dire che la nostra vita si sta sempre di più richiudendo all'interno della home, della casa, no? Sindrome da soffocamento, da accerchiamento, da claustrofobia, tutto questo è il risultato di questo anno di emergenza sanitaria. Io poi non sto a discutere la validità di queste misure, non sono un esperto, non tocca a me farlo. Io sto semplicemente registrando gli effetti di tutto questo. E anche sul piano del banale rendimento scolastico o anche delle motivazioni è evidente che c'è qualche difficoltà. Io credo che i nostri studenti siano degli eroi, davvero, perché riuscire a tenere la rotta dell'impegno, della concentrazione, in un momento come questo è veramente una prova enorme che questi ragazzi stanno affrontando. Io dico che nella maggior parte dei casi la stanno affrontando benissimo. Tuttavia rimane il disagio. Il disagio, come dicevi tu, legato all'incertezza, alla molteplicità di messaggi, alla contradditorietà di questi messaggi. Perché nella maggior parte dei casi i cosiddetti esperti non sono mai d'accordo quasi su niente, no? Quindi capisci che l'opinione pubblica, e noi tutti siamo opinioni pubblica, è sempre di più in imbarazzo di fronte a quelle che devono essere le misure migliori per uscire da questo incubo. Per cui sui ragazzi questa cosa ha avuto, e ha tuttora, un effetto devastante e soprattutto perché va a colpire la loro socialità. E quindi va a infrangere quel mondo di relazioni, di contatti e di incontri che in tutta l'età della vita diventa stimolante e fondamentale per la crescita. Soprattutto in quella, in quell'età lì. Per cui è fondamentale che anche qui i messaggi che arrivano devono essere più chiari, devono essere univoci e non devono lasciare spazio a ambiguità. Cosa che invece io continuo purtroppo a registrare. Se non si prendono provvedimenti seri sulla scuola e sui giovani si rischia un buco generazionale? E' evidente, sì. Ma la questione del buco generazionale è che si rischia di creare uno scompenso nella crescita. Per cui queste persone stanno perdendo dei pezzi di esperienza, è inutile che ce lo raccontiamo. Adesso io ho tenuto delle conferenze a scuola sul giorno della memoria. E la scuola tutti gli anni organizzava un'esperienza che si chiama Treno della memoria, da cui faccio un po' di autopromozione. E' uscito il mio libro, Treno della memoria. Bene, questi ragazzi quest'anno, e neppure l'anno scorso peraltro, hanno potuto, come dire, non hanno potuto partecipare a questa esperienza. Che è molto importante. Ma questo è solo un esempio, no? Delle tante occasioni che sono state perse in questo anno terribile. E quindi, cioè, mancando proprio dei pezzi di esperienza, è chiaro che mancano dei pezzi di crescita. Che non so come e se verranno in qualche modo mai recuperati. Ora parliamo di lei. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane stanno troppellando voci, no? Di una sua possibile candidatura come sindaco a Cornier. Cosa ci dice al riguardo? È una cosa concreta? Ci sta pensando davvero? Allora, facciamo così. Ti rispondo da... come risponderebbe Platone. Cioè, mettiamo in mezzo così uno qualsiasi. Platone aveva detto una cosa a un certo punto, e l'aveva anche scritta, che non ci sarà mai. E ovviamente tutto quello che dico adesso non è prodomomea, cioè non è autopromozione, dico solo, è un cappello introduttivo. Platone diceva comunque che le città, in questo caso la polis, Atene, sarebbe stata governata se i filosofi fossero mai andati al governo, oppure se i politici si fossero mai convertiti alla filosofia. Posso rassicurare alle persone che mi ascoltano che quasi mai i filosofi sono andati al governo, e quando l'hanno fatto hanno solo fatto disastri, quindi... oppure sono finiti malissimo, gli hanno tagliato la testa, o li hanno messi al rogo, insomma, delle robe così. Quindi, il rapporto tra filosofia e politica è un rapporto antico e problematico. Quindi è inevitabile che un filosofo, un intellettuale, possa venire la tentazione di occuparsi della politica, cioè della polis, della politeia, quindi della cosa pubblica, no? Senza avere la pretesa di aver capito tutto, ovviamente, come invece il vecchio Platone pensava. E quindi, per tornare alla tua domanda, insomma, in maniera più circoscritta, per me la politica è sempre stata più che una passione, è stata, come dire, il coté, come dire, reale alla mia attività filosofica, cioè una filosofia o una ricerca filosofica che non si traduca anche in uno sforzo di partecipare, e anche nel mio piccolo, di migliorare la vita della comunità nella quale, diciamo, vivo, ecco, una filosofia di questo genere è sterile, inutile. Per cui io credo che, come direbbe un politico più navigato di me, mi metto a disposizione della città, insomma, no? E quindi non è tanto importante il ruolo che io posso rivestire, è importante quello che io posso fare, il mio contributo. Abbiamo creato a Cornia, abbiamo creato una chat, perché non ci si può vedere, per motivi legati appunto all'emergenza, abbiamo creato una chat di persone di buona volontà, al di là dell'orientamento politico, che in qualche modo poi è evidente che c'è, ma quello che è importante non è il marchio, il bollino, il simbolo, l'importante è la capacità di produrre progetti, visioni, idee, no? Questo non vuol dire che non ci sono più distinzioni fra destra e sinistra, questa è una stupidaggine che io non ho mai capito, però vuol dire che la grande battaglia si fa su quello, non sul simbolo, sull'appartenenza. Ecco, questo gruppo di persone di buona volontà sta provando a costruire un percorso comune, un percorso fatto di scambio, di comunicazione, di riflessioni e di analisi su quello che è stato il recente passato di Cornia e quale potrebbe essere il futuro di questa città nei prossimi 5-10 anni, perché è in dubbio, e non voglio offendere nessuno, non voglio fare torto a nessuno, che sono oramai troppi anni che Cornia è una città in declino, e purtroppo questo declino non siamo riusciti ad arrestarlo, non sto dicendo che sia colpa di chi l'ha governato, ma sicuramente, come dire, per una serie di componenti questa città vive un momento di grande sfiducia e quindi appunto questo gruppo di cui io faccio parte vorrebbe produrre e proporre un progetto per la città. Cosa non ha funzionato secondo lei a Corniai? Adesso tu mi stai facendo una domanda che mi attirerà qualche avversario, qualche critica. Io premetto che la mia conoscenza dell'amministrazione nei dettagli è superficiale, per cui mi limito a comunicarti una mia sensazione. La sensazione che ho da quando sono residente a Corniai, quindi da circa sei anni o sette, è una sorta di stagnazione, cioè di immobilismo. E questa stagnazione, questo immobilismo si declina in tutti i settori della vita pubblica, dal commercio alle iniziative, al turismo, alle proposte culturali. Qualcuno potrà dire che la mia analisi è eccessivamente severa. La prospettiva nella quale io mi muovo mi sembra questa. Sono anche disposto ad accettare, come dire, qualcuno che mi smentisca. La mia sensazione è che i cuorniatesi questa sensazione di immobilismo, di stagnazione, la vivano. Poi, come fare per riscattare, come dire, questa città? Questo è un problema enorme. Non nessuno di noi ha la verità in tasca, nessuno di noi ha la soluzione a tutti i problemi. Però io credo che il punto di partenza di chiunque voglia presentarsi come candidato sindaco, ma anche per il governo della città, debba essere una presa d'atto. Questa città è arrivata a un punto minimo, anche proprio del proprio essere comunità. Perché al di là del declino economico, c'è anche un declino della comunità, del senso stesso dello stare insieme. Cioè, ti faccio un esempio. Io non so, a Cornier, non riesco a riconoscere un luogo di aggregazione. Ma non solo per i giovani, che è sempre la solità, ma anche per i meno giovani. Non c'è un luogo, non ci sono dei punti di riferimento. Ecco, in questo forse un'amministrazione qualcosa può fare. Ripeto, non abbiamo nessuno di noi alla bacchetta magica, ma almeno porsi il problema, questo è fondamentale. Quindi la ripartenza di Cornier dovrebbe essere la cultura? Allora, dovrebbe essere l'idea di recuperare un senso di comunità, che può passare attraverso canali diversi. Ti faccio un esempio, è un'idea che io, anche qui, ho lanciato. Noi abbiamo quello scatolone enorme che è l'ex manifattura, che è stato acquistato con grande fatica, con grande dispendio anche di risorse da parte del comune. E nessuno, per esempio, ha mai pensato di creare all'interno di questo luogo un museo dell'archeologia industriale, cioè che raccogliesse e riprendesse tutto l'arco storico di quel luogo, che ha segnato la vita di molte persone, non solo di Cornier, ma anche di tutte le valli. Quindi, per esempio, ecco, quello fare comodità, cioè intorno a quel recupero della memoria, si dà ai cittadini Cornier un senso di appartenenza. Non dico che quello sarebbe la soluzione di tutti i problemi, ma è un piccolo esempio di quello che io intendo dire. Cioè, rilanciare, perché sapete, parlare di identità è facile, no? Però poi bisogna capire che cos'è l'identità di un luogo, no? Cioè, identità di un luogo vuol dire proprio rivalorizzare quelle che sono le radici di quel luogo, no? E in questo modo, e questa è una mia, magari è una mia convinzione, magari errata, in questo modo si crea anche l'integrazione. Cioè, io, la mia impressione è che Cornier sia un luogo dove ci sono più comunità, in cui, per esempio, la presenza di migranti è molto forte, ma comunità che vivono separate l'una dall'altra, dalle altre. Perché, appunto, non c'è un percorso comune, non c'è una condivisione, e chi arriva a Cornier da fuori non sa nulla della storia di Cornier e, d'altra parte, non c'è nessuno che gli offra questa idea, no? Che Cornier ha una storia, ha delle tradizioni, una cultura, tutte queste cose, ecco, credo che un'amministrazione potrebbe, in qualche modo, offrirle alla cittadinanza. Ecco, dopo questa analisi su Cornier vorrei rispostarmi a livello nazionale. Ecco, lei, in uno dei suoi ultimi articoli, ha parlato della tecnica. Ecco, lei ha detto che la tecnica è molto efficiente, ma allo stesso tempo molto disumana. Ecco, noi in questo periodo stiamo vivendo la tecnica per eccellenza, Mario Draghi, ossia il ex capo della BCE, un personaggio che è un politico, una persona a livello internazionale che è riuscita, diciamo, a salvare la moneta dell'euro e che adesso è a capo del governo. Ecco, la filosofia, come vede questo nuovo governo? Come vede la persona di Mario Draghi su cui si dice tutto e il contrario di tutto? Una persona che è stata, diciamo, santificata dai media, però allo stesso tempo viene criticata come il re dei massoni, come una persona che fa gli interessi dei poteri forti. Come vede la filosofia questa situazione? No, guarda, adesso anche su questo chiedo scusa un'altra autocitazione, no? Allora, io ho scritto qualche anno fa un libro che si intitolava Esodati. Esodati era il risultato di un mio lavoro fatto con la CGL di Torino, con la Camera del Lavoro di Torino, ma non solo, poi si è ramificato un po' in tutta Italia. Gli Esodati erano il frutto velenoso della riforma Fornero, che era stata intrapresa da Monti. Ok? Altro tecnico. Ecco, in quel contesto io ho capito, adesso io posso parlare di Monti perché abbiamo visto cosa ha fatto. Di Draghi mi aspettiamo, no? Però per dirti, per tornare alla tua domanda. Ecco, io in quella circostanza, quando scrivevo questo libro, mi sono proprio accorto di questo, no? La tecnoeconomia. Allora, all'epoca girava questo slogan, no? Ce lo chiede l'Europa, no? Il famoso diktat che fece saltare il governo Berlusconi Berlusconi e che poi, appunto, diede l'inizio del governo Monti. Il diktat voleva dire che l'Europa ci aveva imposto una serie di riforme, tra cui la riforma delle pensioni, fatta in una maniera oscena, no? Io mi ricordo, avevo conosciuto molte persone, e lì avevo capito questa cosa. Cioè, avevo capito che se noi diamo la gestione della politica, e di nuovo, torno a dire, non solo della vita del bene pubblico, del bene comune, ma anche delle possibilità di sviluppo di una comunità, dei valori su cui questa comunità si può reggere. Ecco, in quella circostanza mi sono accorto proprio di questa cosa che tu hai detto, cioè che la riforma delle pensioni era stata una spregiudicata e cinica operazione di contabilità, no? Cioè, tecnica, noi dovevamo risolvere un problema legato al debito pubblico, scusa, al debito dell'Inps, e quindi come lo risolviamo? Abbattendo una serie di costi. Le conseguenze umane, sociali, psicologiche di questa roba sono state totalmente ignorate, no? O forse sono state considerate, come dire, quasi costi accessori, no? Oppure danni collaterali di una guerra, no? O di un'impresa. Ecco, io quello che mi spaventa della tecnica è proprio questo, no? Cioè, la sua presunta neutralità, che in realtà non è una vera neutralità, perché poi anche la tecnica sceglie. Però, ecco, il problema è di capire quali sono i criteri con cui la tecnica sceglie. Ci sono appunto i criteri della semplice efficienza e quindi del rigore, di un rigore che però alla fine poi risulta disumano, perché poi non dobbiamo dimenticarci di una cosa, che le società umane nascono perché gli esseri umani non possono vivere da soli e non vogliono vivere da soli, e nascono anche per garantire alla maggioranza delle persone una vita degna di essere vissuta. non solo per far quadrare i conti del bilancio. È importante, cioè, forse qualcuno se lo dimentica. Quindi, ora, rispetto a Draghi, io sinceramente non sono in grado di ipotizzare o di anticipare quello che farà. Il grande sospetto che ho, se vuoi, da osservatore periferico, quale io sono, è che questa accozzaglia di partiti e di sigle possa produrre un topolino, cioè, qualche cosa di cui non abbiamo veramente bisogno. Certo, allora, se il governo Draghi renderà più razionali le vaccinazioni, va benissimo. Se scriverà finalmente un piano per ottenere il, diciamo, il, come si chiama, il recovery plan, il recovery fund, va benissimo. Però anche lì, e poi mi fermo, anche lì bisogna stare attenti, perché, allora, compilare il recovery plan non è qualcosa di tecnico, è qualcosa di politico, perché scegliere di destinare X alla sanità, piuttosto che alla scuola, piuttosto che alla informatizzazione, cioè, sono scelte politiche. Quindi, non possiamo neanche nasconderci troppo dietro la tecnica, immaginando che la tecnica sia neutrale e che sia, diciamo, guidata da solo criteri dell'efficienza, perché anche su questo sarebbe, come dire, si bisognerebbe discutere. Per concludere, però, mi sento di dire questa cosa qua, che questa roba che è accaduta, per alcuni aspetti, è un atto di autodimissione dalla politica. Nel momento in cui si sceglie uno come Draghi, è evidente che da questa classe politica non sono riuscite, cioè, non sono emerse delle personalità tali da governare il paese in un momento così difficile. E questo ci dovrebbe far riflettere moltissimo. Ma perché non sono emerse? Perché i criteri con cui vengono selezionati i politici oggi sono farsa. Cioè, se io penso alla preparazione culturale degli uomini della Prima Repubblica, e li paragono a questi, cioè, capisci che c'è da disperarsi. Ma questo non solo a livello, diciamo, nazionale, purtroppo a livello regionale e anche comunale. Cioè, o cambiamo i criteri di selezione della classe politica, li rendiamo più meritocratici, o altrimenti avremo bisogno sempre del subitore della patria, sperando che lo sia veramente. Ma come mai l'uomo, nel corso degli anni, è sempre più affascinato dalla voracità della tecnica? E perché, come direbbe qualcuno, la tecnica, come avrebbe detto Severino, un filosofo che è morto da qualche anno, la tecnica ci promette un paradiso. Cioè, siccome non crediamo più nel paradiso, quello lì, no, dei cristiani, perché la maggior parte di noi non crede più neanche, diciamo, in Dio, e allora, però, siccome abbiamo comunque bisogno di speranze, perché non è che se uno, se il senso religioso della vita declina, non viene comunque meno la speranza di ciascuno di noi, no? Quindi la speranza, che una volta era affidata al sentimento religioso, adesso viene affidata alla tecnica. Però vedi, cioè, quello che sta accadendo col Covid, cioè, ci dimostra proprio il contrario, cioè, che quell'idea della tecno scienza, cioè, come strumento formidabile di risoluzione dei problemi, è un'illusione. Cioè, il paradiso della tecnica, quello che la tecnica, o perlomeno ci prometteva, in realtà rischia di diventare un inferno. Perché, appunto, le soluzioni tecniche, molto spesso, sono rassicuranti, ma non tengono conto della complessità dell'umano. Ed è per questo che bisogna ricominciare a fare filosofia, o meglio, non bisogna mai smettere di fare della filosofia, soprattutto nel momento in cui la filosofia è in grado di mostrare la fallibilità di tutte le nostre certezze. Ah, come dire, cosa che noi avevamo capito, noi filosofi, fin dal Novecento, ora anche, diciamo, l'ultimo dei elettori di Repubblica capisce che il mito della scienza e della tecnica, cioè il mito della infallibilità della scienza e della tecnica, è miseramente crollato. Questo ultimo anno lo dimostra chiaramente. perché se tu senti Ricciardi ti dice una cosa, se senti Bassetti te ne dice un'altra e sono entrambi due medici, virologi, epidemiologi, cosa diavolo sono, non lo so, però, allora capisci che queste persone, come dire, non fanno altro che confermare ciò che pensavamo fin dall'inizio del Novecento, cioè che non esiste più la verità, ma esiste comunque, esistono più verità e che la lotta è fra interpretazioni del mondo che sono purtroppo, forse, perché era più rassicurante pensare che ce ne fosse una giusta, che purtroppo sono tutte sullo stesso piano e quindi dobbiamo accettare il conflitto, come diceva Ricœur, il conflitto delle interpretazioni, come chiavi di lettura dell'esperienza umana su questo pianeta. Ecco, proprio questo conflitto tra interpretazioni del mondo crea una grande, diciamo, sofferenza negli uomini, una grande instabilità. Ecco, e noi siamo sempre più affascinati dal vedere come magari i paesi come la Cina siano riusciti a controllare il coronavirus, la situazione del Covid. Questo non rischia, forse, di ammirare, appunto, quelle realtà in cui la verità è solo una? Ah sì, certamente, lo dicevamo prima, cioè la fragilità dell'umano consiste anche in questo, cioè nella speranza di affidarsi poi appunto a un'ideologia che possa salvare oppure al capo carismatico, alla Max Weber, no? Ma sappiamo benissimo, e l'esperienza del Novecento, guarda, Christian ce l'ha insegnato in maniera molto tragica, che se noi affidiamo troppo potere al cosiddetto capo carismatico, questo capo carismatico, come il pifferaio della favola dei fratelli Grimm, conduce i topolini verso il fiume, cioè alla morte o alla rovina. Quindi dobbiamo avere il coraggio, come diceva Kant, di pensare, di pensare e di essere critici nei confronti di tutto e di tutti. e questo vuol dire diventare adulti. Allora, chi si affida appunto alla dottrina salvifica o all'uomo della provvidenza, vuol dire che non ha fatto un percorso di crescita, che sia un individuo o un popolo. Bisogna, infatti per quello io credo ancora e credo sempre di più che l'Europa sia la salvezza del mondo, perché noi europei siamo, con tutte le nostre contraddizioni, siamo adulti. Abbiamo conosciuto l'illuminismo, abbiamo conosciuto la rivoluzione scientifica, abbiamo conosciuto andando ancora più indietro la grandezza del, diciamo, dell'età classica e siamo adulti. Altri popoli, a mio giudizio, o altre civiltà sono bambine e infatti hanno bisogno del padre e dell'uomo della provvidenza che li guidi. Partirei per l'ultima domanda dalla parola che ha citato lei, memoria. Nell'ultima settimana c'è stata una forte discussione ripresa anche dai media nazionali su alcune frasi revisioniste da parte del comune di San Francesco al campo, da cui poi sono arrivate le dichiarazioni del sindaco che smentisce appunto le tesi revisioniste che sono uscite dalla frase. Ecco, lei come scrittore del treno della memoria, come uno dei personaggi locali che più si è battuto su questo tema, sul tema dell'Holocausto, sul tema della memoria, come ha vissuto questa vicenda? Ma allora, Marlon Cristiano, devo dire che la prima reazione che ho avuto è stata veramente di enorme fastidio, perché il sindaco di un comune, quindi il sindaco è un'istituzione pubblica, quindi che rappresenta la Repubblica Italiana, che non si accorge, perché pare che non se ne sia accorto, io questo non intero nel meglio, non si accorge che per sei giorni sul sito del suo comune compare una nota, scritta peraltro anche male, che comunque rimanda delle tesi revisioniste, ecco, un sindaco di questo genere mi lascia oggettivamente un po' sbigottito e mi ha lasciato ancora più infastidito la prima risposta che ha dato questo signor Coriasco, e cioè che non avevamo capito quello che c'era scritto, e invece no, mi dispiace, cioè, non è che siamo tutti degli imbecilli, cioè, sappiamo ancora leggere e capire quello che leggiamo, non c'era molto da, ecco, in questo caso non c'era molto da interpretare, che il messaggio era molto chiaro, quindi, io mi sarei aspettato immediatamente una presa di distanza, poi quando ha capito che la faccenda stava degenerando, allora finalmente si è, diciamo, deciso, dopo avrei polemizzato con la minoranza, cioè, come se fosse colpa della minoranza, io non so neanche chi è la minoranza del francese, ma non è un problema mio, cioè, lì di nuovo queste cose da cortile, no, cioè non deve polemizzare con la minoranza, non doveva farci sentire degli imbecilli perché non avevamo capito quello che era stato scritto, doveva semplicemente dire abbiate pazienza, ho fatto una stupidaggine colossale, chiedo scusa e ne scrivo un altro, no, di un altro tono, cosa che peraltro lui non ha fatto, ma al di là della disavventura in cui è capitato questo Coriasco, questo sindaco di San Francesco, il problema è un altro, che c'è troppa gente, e sempre di più troppa gente, che affronta un tema così importante come la Shoah con enorme superficialità, allora, non è perché io ho scritto un libro sulla Shoah che allora sono diventato improvvisamente un maniaco ossessivo della Shoah, no, dico semplicemente che la Shoah come tante altre cose, come le purghe staliniane, come i Gulag, come la guerra nella ex Jugoslavia della fine del Novecento, che si è combattuta a non tanti chilometri da qua, come i lager libici, sono qualcosa di mostruoso, cioè hanno tutti la sesta matrice e quindi vanno tutti ugualmente combattuti, ma come si combatte questa roba qua? Si combatte con l'educazione, con la consapevolezza e non si può, non ci possono essere deroghe a questa roba qua, cioè non ci possono essere fraintendimenti, allora, perché davvero, nel momento in cui la tragedia della Shoah si allontana nel tempo, è anche più difficile, come dire, mantenere, mantenere forte la tensione rispetto a quello che è accaduto, e proprio perché appunto, e io lo scrivo, lo dico tutte le volte che me lo chiedono, la memoria non è un fatto passivo, è un fatto attivo, cioè, se noi ci limitassimo a celebrare il giorno della memoria come se fosse la, non so, la festa del santo patrono, potremmo anche lasciar perdere, potremmo trasformare Auschwitz in un parco giochi, noi dobbiamo ricordare quella roba lì, perché da quella roba lì ci serve per sapere che è successo, ma che soprattutto non deve più succedere, cioè, deve essere un argine nei confronti di tutte le tentazioni che ci sono in ciascuno di noi e ma anche a livello collettivo, di, come dicevamo prima, cioè, di fare ricorso al salvatore della patria, al demiurgo, al capo carismatico che poi trasforma appunto questo sogno in un incubo e crea, come diceva Camus, il carcere della storia, no? Ecco, noi dobbiamo lottare contro l'idea del carcere, come l'idea che la storia degli esseri umani possa essere un carcere dove qualcuno poi, prima o dopo, ci finisce. Prima di ringraziarla per l'intervista, le faccio un'ultimissima domanda, quando sapremo quando diventerà che si candiderà a sindaco? Ah, beh, ma le primarie non si possono fare, il popolo non potrà scegliermi e sarà, come dire, la scelta del candidato sindaco nel nostro caso sarà l'ultimo atto di un percorso di costruzione. Quindi, e questo mi piace, noi abbiamo adottato questo metodo come gruppo, non vogliamo, come dire, fossilizzarsi sui nomi, cioè non vogliamo concentrarci sui nomi, anche se poi è vero che poi sono le persone che portano in giro le idee, ma in questo momento, appunto, ciò che conta è che noi riusciamo a essere credibili, cioè che riusciamo a proporre un progetto per la città, poi, chi lo rappresenterà fisicamente lo decideremo noi insieme e cercheremo anche poi di sentire l'umore popolare, no? Perché è evidente che anche quello che le persone pensano è importante. Quindi, alla tua domanda, ovviamente io la risposta non ce l'ho, ma ripeto, non voglio fare il finto modesto, ma non è questa la questione fondamentale, io sto lavorando davvero perché come cittadino di Cornier nel mio piccolo posso provare a dare un contributo con le mie energie, con le mie risorse. professore, la ringrazio molto per questa intervista e saluto il pubblico che ci ha ascoltati e lascio l'ultima parola a lei. Io ringrazio per la incredibile attenzione, sono 38 minuti che stiamo parlando e ringrazio anche Christian della ospitalità. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik.